Buongiorno, grazie a tutti per essere qui, per essere qui a San Patrignano. Per noi è sempre un piacere ricevere amici vecchi e nuovi in questa nostra casa. E per essere qui a questo forum sull'economia positiva, che è stato estremamente interessante, in questi due giorni abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un sacco di storie molto belle, visioni che si sono realizzate, diventate esperienze concrete, esattamente come appunto San Patrignano, una visione che è diventata una realtà concreta, viva, vibrante, da molti anni, da 36 anni, e che ha cercato di dare una risposta a un problema sociale molto grosso. Ho chiamato condividere la speranza, la mia presentazione, perché è quello che cerchiamo di fare. Condividere la speranza che qualcosa si possa risolvere, che i problemi possono essere affrontati in maniera nuova, per trovare soluzioni nuove, a un problema che invece è molto vecchio. La tossicodipendenza è un problema globale. Il report delle Nazioni Unite 2013, ce lo dice, è un problema che tocca tutti i paesi, non conosce latitudini, è un problema che non si fa fermare da barriere economiche, sociali, di genere. Un dato su tutti per riflettere, negli Stati Uniti, quindi non certo un paese povero, per abuso di farmaci antidolorifici, painkiller, per intenderci il Vicodin del dottor House, che forse molti conoscono, muoiono ogni anno all'incirca 15.000 persone. Un dato impressionante, io sono rimasta colpita. 15.000 persone di classe sociale e media, professionisti, moltissime donne fra questi. Quindi è un problema che va a colpire la persona in un suo momento di vulnerabilità, di difficoltà. Lo colpisce perché in quel momento sta vivendo un disagio esistenziale, una difficoltà ad affrontare la vita per il quale non si sente attrezzata a sufficienza, non ha gli strumenti o non li ha ancora. E questo ci fa pensare che i nostri adolescenti forse sono fra le categorie più a rischio, in questo senso. Non hanno ancora gli strumenti per affrontare le difficoltà della vita. Comunque sia, quando la tossicodipendenza arriva, porta con sé isolamento, emarginazione, paura, e tanta, tanta disperazione, degrado personale e sociale. Ed è proprio per rispondere a questa disperazione e soprattutto alla rassegnazione che questa provoca di fronte a un problema che non sai come affrontare, come risolvere, ti viene voglia di dire, vabbè, non posso farci niente, devo accettarlo per quello che è, devo cercare di rimediare, di tamponare il problema. No, invece no, si può risolvere. Si può risolvere, si deve risolvere, è un dovere della società, offrire ai giovani delle soluzioni diverse, delle opportunità diverse, perché non solo i giovani in difficoltà saranno aiutati da questa cosa, ma anche chi ancora non è caduto nel problema potrà imparare qualcosa, imparare ad essere più forte. L'approccio che San Patrignano ha avuto rispetto a questo problema, l'abbiamo visto con i due Antoni, con Rita, è un approccio assolutamente innovativo, perché i giovani che sono stati accolti in comunità non sono stati accolti in una logica di assistenzialismo, li aiutiamo, poverini, no? Sono essi stessi stati resi protagonisti del loro percorso, del loro cammino, perché solo così potevano riuscire a far riemergere la loro personalità, la loro voglia di vita e di essere se stessi. Il tutto in un approccio totalmente gratuito, quindi questi sentimenti di condivisione, di solidarietà che venivano offerti in maniera appunto gratuita, venivano e vengono naturalmente, e puntando alla sostenibilità, perché sin dall'inizio Vincenzo ritenne giusto che questa soluzione, una delle soluzioni possibili, comunque questa soluzione non pesasse sulle tasche delle famiglie già molto provate, sui ragazzi che naturalmente erano protagonisti, quindi non pagavano per ricevere un servizio, ma loro stessi erano parte di questa soluzione, e in più offrire loro la possibilità di imparare un mestiere per tornare poi alla vita. Quindi si punta alla sostenibilità, ma ovviamente la sostenibilità è parziale, perché la principale mission è comunque quella di aiutare i ragazzi e di insegnare loro un mestiere. La formazione professionale fa parte di San Patrignano, il lavoro fa parte di San Patrignano, ma non il lavoro inteso come fine produttivo o di guadagno, ma il lavoro inteso come strumento, come mezzo attraverso il quale ciascuno può riconquistare la propria dignità di essere umano, può incominciare a credere nelle proprie capacità di vivere, di essere, migliorare la propria autostima, tutte cose che la tossicodipendenza ha distrutto, ha completamente deprivato la persona della possibilità di credere in se stesso, nelle sue possibilità. E poi attraverso il lavoro, attraverso il fare, insieme tante cose, tante attività di formazione, ma anche di accudimento della casa, si impara a relazionarsi con gli altri, altra cosa che si è persa per strada negli anni bui, difficili. E non ultimo, ovviamente, la qualifica professionale, qualcosa che ti consenta di entrare a testa alta nel mondo del lavoro e di dire, io so fare questo, non sono nessuno, sono un essere umano con delle capacità e posso spenderle nel mercato del lavoro e trovare il mio posto nella vita. San Patrignano è cresciuta in questi valori, è diventata quella che è oggi e in futuro sarà ancora qualcos'altro, però mantenendo sempre intatti questi valori, quindi cambieranno delle cose, ma come diceva Antonio stamattina, i due Antonio, tutte e due, e Rita, i valori di San Patrignano saranno sempre gli stessi. Per questi motivi, l'approccio innovativo, i risultati che abbiamo sentito stamattina, da tutto il mondo, ho fatto questa mappa, perché un lungo elenco sarebbe stato forse un po' noioso, da tutto il mondo vengono a visitarci, a conoscerci, a cercare di capire di più, a cercare di capire perché funziona e soprattutto se sia possibile trasportare questo modello in altri paesi, in altre situazioni, in altre culture, con altri tipi di sostanze, beh sicuramente quello, il problema non è la sostanza, ma è la persona, quindi è aiutare la persona a ritrovarsi stessa, quindi con Antonio abbiamo visto ancora una volta quanto sia importante l'individuo e non di quale tipo di sostanza abusa. Quindi il fatto di replicare San Patrignano altrove non è una scelta strategica della comunità, una decisione presa a tavolino, ma nasce molto spontaneamente come risposta alle tantissime richieste che vengono da molti paesi del mondo di imparare, di capire qualcosa di più del modello educativo di San Patrignano per poterne poi applicare i principi educativi nei centri o in fase di realizzazione o già realizzati per eventualmente trovare se la risposta che noi abbiamo dato a questo problema, che è una delle risposte, possa essere applicabile anche nel loro contesto. Quindi come è possibile fare questa cosa, replicare San Patrignano altrove? Beh, intanto ci deve essere una condivisione di basi, dei valori. Vivere la tossicodipendenza come una fase, un momento della vita di una persona e quindi avvicinarsi alla persona nella sua integrità e cercare e rispettarla come tale e quindi vivere un momento difficile della sua vita per riaccompagnarlo verso una vita che abbia un significato. Naturalmente questa condivisione deve comunque tener conto assolutamente e fondamentale della differenza dei contesti culturali, economici, sociali, perfino climatici in cui il progetto si andrà a realizzare. Quindi ci deve essere sì l'appropriazione dei principi di base del modello educativo ma poi va adattato alle situazioni legali, anche legali, amministrative, diverse che sono tanto complesse. Quindi non sono i membri dello staff di San Patrignano andare in giro per il mondo a costruire tante piccole San Patrignano non sarebbe neanche possibile non abbiamo tutte queste risorse umane da spargere per il pianeta e poi è fondamentale che le persone che sono interessate a replicare il modello vengano qui capiscano se veramente questo modello può interessargli fino in fondo e quando se ne sono appropriate lo applicano adattandolo al loro contesto culturale e dopo avviene appunto questo trasferimento di competenze fra gli staff di San Patrignano e quelli del centro nuovo che andrà a nascere gli strumenti infatti sono molto semplici quasi banali una visita di studio perché sentir parlare di San Patrignano come spesso accade a molti in contesti internazionali al palazzo dell'ONU dove San Patrignano è spesso presente in quanto già da 97 San Patrignano è stata accreditata con lo status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite quindi siamo degli interlocutori per l'ONU per la nostra expertise nel campo delle droghe e quindi sentono parlare di questo posto devono venirlo a vedere per vedere se corrisponde se anche da vicino vivendolo mantiene quella forza ispiratrice di cui hanno avuto la percezione a distanza poi c'è la possibilità di accedere a dei master universitari che nel quadro più ampio di un'analisi del problema della tossicodipendenza e dei possibili approcci hanno anche spazio per l'analisi del modello di San Patrignano sono collaborazioni che abbiamo fatto negli anni con varie università e varie università appunto possono offrire questa opportunità e infine i laboratori esperienziali i laboratori esperienziali sono un periodo di training che avviene all'interno della comunità sono fondamentali perché solo vivendo dall'interno la comunità stando per una settimana dieci giorni o quello che è insieme ai ragazzi insieme allo staff si può comprendere veramente l'importanza cruciale delle dinamiche relazionali che si instaurano fra le persone fra lo staff e i ragazzi fra i ragazzi stessi perché questi sono tutti i processi che agevolano che favoriscono che inducono il cambiamento queste dinamiche relazionali profonde talmente intime da andare a sviscerare tutte le problematiche di una persona e andarle a affrontare a risolvere in maniera però casuale non con sedute psicoterapeutiche abbiamo visto con Antonio alcuni ambiti hanno necessità di questo ma il nostro approccio alla toxicodipendenza è un approccio personale intimo individuale ognuno ha un mondo ognuno ha bisogno del suo cammino e ognuno deve scoprire pian pianino nella vita di ogni giorno quali sono le sue potenzialità e i suoi talenti lo scopo quindi di questi laboratori è evidente integrare la conoscenza teoretica che viene realizzata attraverso delle lectures degli incontri che questi partecipanti a questi training hanno con la conoscenza pratica la vita quotidiana negli ambiti nei settori nei laboratori di formazione professionale parteciperanno alle attività quotidiane in modo da vivere proprio naturalmente da dentro la comunità in salone ci siete stati in questi giorni è un'esperienza importante credo che viverla dia la misura di quello che c'è fra tutti noi mi fa piacere adesso elencare alcune ma solo alcune delle realtà che sono nate negli anni ispirandosi a San Patrignano chi in maggiore chi in minore misura partiamo da The Hope che è nata nel 79 quindi più o meno nello stesso periodo di San Patrignano in realtà è nata in maniera autonoma ma poi in un secondo tempo vista la comunanza proprio della visione anche loro hanno cercato di riunire in un unico centro grande tutti i piccoli centri che avevano sparsi sul territorio in Olanda e farne uno unico in questo modo hanno pensato di ottimizzare le forze e hanno mandato i loro operatori qui a San Patrignano per imparare le implicazioni organizzative terapeutiche di un simile cambiamento Vitanova nasce nell'87 a Woodbridge che è vicino a Toronto in Canada e Umel Nur nasce nell'89 a Beirut in Libano entrambi hanno beneficiato del grande aiuto supporto di Vincenzo Muccioli il nostro fondatore in persona e di momenti di tirocinio all'interno della comunità tutte queste tre realtà che abbiamo visto hanno mantenuto intatto la gratuità dell'aiuto offerto l'attenzione alla persona non hanno però mai implementato la parte relativa all'impresa sociale al lavoro al fatto che un reinserimento sociale poi era necessario quindi una piccola parte è mancata cosa che invece ha fatto Basta Arbets Cooperative nata in Svezia a sud di Stoccolma a Nikwan nel 94 Arbets Cooperative infatti vuol dire cooperativa di lavoro loro hanno implementato in maniera veramente fedele questo aspetto Welcome Home Society è una cosa molto speciale è nata nel 2003 hanno due sedi una Seattle negli Stati Uniti una Vancouver appena di là dal confine in Canada e nasce dall'iniziativa di un imprenditore canadese ricchissimo John Volken di origine tedesca aveva tutto aveva raggiunto il culmine della sua carriera tantissimi soldi e a quel punto ha deciso che doveva farne qualcosa di diverso di tutti questi soldi ha incontrato alcune persone di San Patrignano e ha pensato che quello potesse essere l'area a cui voleva dedicare le sue energie e tutta la sua ricchezza quindi ha creato questo centro che già nel nome è accogliente Welcome Home Society e hanno implementato questo progetto che sia per la lunghezza del percorso sia per l'attenzione a ogni singolo dettaglio della formazione del percorso della persona sia per il forte sostegno poi in fase di reinserimento è veramente in molte cose assomiglia e riproduce il modello di San Patrignano abbiamo World Doing Farm nel 2009 in Canada sempre ecco loro hanno ideato questo progetto per offrire aiuto ai senza tetto hanno avuto molte difficoltà come vi dicevo prima anche dal punto di vista legale e amministrativo ogni realtà deve fare i conti col contesto in cui va a collocarsi e loro hanno avuto molti di questi problemi stanno riprendendo adesso dopo due o tre anni in cui sono stati bloccati nell'agire ma speriamo facciamo i nostri migliori auguri a loro Jagersberg che nasce in Norvegia nel 2012 veramente mi hanno detto proprio ieri gli amici che erano qui con noi anche i ragazzi di Basta erano qui con noi che sono nati all'inizio del 2013 quindi hanno compiuto da poco un anno è l'unico fra questi centri che nasce da un'iniziativa pubblica la municipalità di Christiansen il comune ha deciso di impegnarsi per fare qualcosa di utile quindi al contrario delle altre che sono tutte iniziative private questa è un'iniziativa pubblica poi abbiamo Yves che nasce in Scossia ma ancora sono nella fase di recupero dei fondi di individuazione di un posto dove nascere e svilupparsi e poi abbiamo gli amici del Brasile che stanno lavorando per farlo abbiamo una realtà che sta nascendo in Australia insomma tante cose tanti figli sparsi per il mondo a cui vogliamo certamente augurare il meglio perché quello che fanno anche se non replicano al cento per cento il modello non è importante quello che è importante è che credano nell'uomo credano nel fatto che ogni persona ha il diritto e la società ha il dovere di offrirgli una seconda opportunità perché possa ritornare alla vita grazie per l'attenzione grazie